Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Fusione Ase, i consigli di amministrazione approvano il piano industriale Mamma gioca alle slot machine al bar con le due bimbe piccole, arriva la polizia Sicurezza nei locali pubblici, firmato un accordo in prefettura tra le forze dell'ordine e i gestori Una perdita sospetta d'acqua in Viale Kennedy Ad Acqualagna, nel fine settimana, torna la 51esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Ben ritrovati cari telespettatori di Fanno TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale Occhio alla Notizia sul canale 17, anche in streaming Cominciamo con questa notizia, una notizia che al di là della cronaca dovrebbe farci riflettere Forse si parla sempre troppo poco del problema enorme del gioco d'azzardo Ovvero di quelle persone che soffrono una grave patologia, che è quella del gioco Tante persone che bruciano stipendi interi alle cosiddette macchinette La storia che adesso vi raccontiamo riguarda quella di una mamma di 35 anni Che per più di un'ora si è fermata appunto di fronte a queste macchinette infernali Avendo al seguito due figli piccoli Tutti particolari nel servizio di Lino Balestra Ci sono voluti poliziotti per staccarla dalle slot machine Che l'avevano completamente rapita da oltre un'ora Per richiamarla ai suoi doveri di madre Una fanese di 35 anni in un bar di Vianolfi Come tante persone, ormai tristemente schiave del gioco compulsivo Era completamente assorta nel gioco Quasi in uno stato di transludica A tal punto che le due figlie Una di tre anni e l'altra di appena un anno Erano lasciate a loro stesse all'interno del locale La donna una volta richiamata ai suoi doveri di madre E' stata segnalata dai poliziotti al tribunale dei minori di Ancona Per valutare le sue capacità genitoriali Al titolare del bar è stata elevata una multa di oltre 300 euro Ma la fanese non è l'unica ad essere finita Nelle maglie dei controlli disposti dal commissariato di Pesaro In alcuni locali cittadini Gli uomini del commissariato di Fano Coordinati dal dirigente Stefano Seretti Hanno verificato diversi bar E nel corso di questi controlli Sono state identificate 76 persone E due arrestate Un fanese di 55 anni E un 46enne Sui quali pendevano pene per reati amministrativi da scontare Anche uno studente 15enne E' stato segnalato alla prefettura pesarese Per detenzione di stupefacenti Alla vista degli agenti Nel bar si era allontanato frettolosamente Fermato ed identificato Addosso i poliziotti gli hanno trovato Una dose di hashish e frammenti di marijuana In provincia è stato siglato un accordo importantissimo Che riguarda le opere compensative Sentiamo la dichiarazione del sindaco di Fano Massimo Seri Sul fronte delle opere compensative Anche qui c'è un'importante sottoscrizione Sì, oggi abbiamo firmato la convenzione Con regione, provincia, comune e società di autostrade Quindi anche questa è un'altra bandiera importante Anche se nei fatti le opere sono già state affidate All'azienda Pavimental che realizzerà l'opera Sulla quale stiamo lavorando Anche per alcune modifiche al tracciato Anche questo è un risultato importante Che nessuno pensava che noi riuscissimo a portare a termine Quindi anche questa è una dimostrazione Che stiamo facendo bene il nostro lavoro Che facciamo anche dei miracoli Correggendo errori gravi che sono stati fatti in passato La fusione delle due ASET prosegue e va avanti I due consigli di amministrazione hanno approvato il piano industriale 2.727.000 euro di riduzioni di costi Spalmati in 4 anni dal 2016 al 2020 Spalmati derivanti da economie organizzative e gestionali 1.300.000 euro saranno i fondi disponibili per maggiori investimenti sul territorio Tra i quali in prospettiva anche un digestore per l'umido Cosa che ci costa annualmente 1.500.000 euro In quanto lo smaltiamo fuori provincia I vantaggi in termini economici di questa fusione Sono chiari ed evidenti alla faccia Di chi dice che le cose non le facciamo nei tempi giusti Questo dice il sindaco Seri in conferenza stampa questa mattina Riferendosi alla scadenza del 30 di ottobre Per quello che riguarda la fusione stiamo andando avanti Ieri c'è stato un ulteriore passo importante Che è l'approvazione dei consigli di amministrazione Per il piano industriale e del nuovo statuto Era un passaggio fondamentale Seguirà a questo il passaggio nei consigli comunali entro il 30 novembre E poi l'assemblea Con l'assemblea si conclude l'iter Poi ovviamente ci sono le pubblicazioni Per cui stiamo andando avanti I consigli di amministrazione hanno approvato il piano industriale all'unanimità Anche se con tempistiche differenti Denunciando così chiaramente i diversi umori con cui si è vissuto questo passaggio cruciale La SPA ha messo pochi minuti per approvare il piano industriale Mentre ai tre della holding ci sono volute più di cinque ore Per arrivare all'approvazione di dover essere inglobati nella SPA Ora il passaggio successivo sarà portare nei consigli dei comuni soci Entro il 30 novembre L'approvazione della nuova compagine societaria Che avrà una struttura snella Un direttore amministrativo e un direttore tecnico E il comune capofila avrà una quota diversa Il 70% contro il 97% attuale Ed i comuni soci il 30% Anziché il 3% Per una maggior partecipazione sia negli utili che negli oneri Bocche cucite sul nome del presidente E tra i gestori dei locali pubblici e le forze dell'ordine Da adesso ci sarà più collaborazione Almeno tra quelli della provincia di Pesaro Urbino Un protocollo d'intesa per la sicurezza nei locali da ballo e di intrattenimento della provincia È stato sottoscritto in questi giorni alla prefettura di Pesaro L'accordo che rientra nelle iniziative promosse dal Ministero dell'Interno in ambito di sicurezza Ha l'obiettivo di promuovere la legalità soprattutto tra i giovani È un impegno reciproco Quello preso dalle forze di polizia Le associazioni di categoria E i gestori dei locali Da una parte l'impegno a rafforzare le misure di controllo Nelle zone di maggior affluenza E nei pressi dei locali Con pattuglie sulle strade Per controllare lo stato di salubrità dei guidatori E maggior presenza di agenti in concomitanza di eventi particolarmente affollati Dall'altra i gestori dei locali avranno l'obbligo di segnalare alle forze di polizia Situazioni di illegalità o di pericolo E l'eventuale installazione di videosorveglianza Nonché l'individuazione di un responsabile per la sicurezza del locale Sì, lo scopo fondamentale di questo atto pattizio È quello di realizzare una collaborazione continua Tra le forze di polizia e i gestori dei locali pubblico spettacolo Al fine di evitare qualsiasi turbativa all'interno dei locali Ma anche nell'immediata adiacenza dei locali stessi Per cui agli stessi gestori e al personale Da loro incaricato opportunamente formato Viene data anche la possibilità di allontanare dal locale O non far accedere al locale persone Che si pongano in stato di alterazione O comunque in condizioni tali da poter creare turbative all'interno del locale Questo aspetto dell'accordo è un passaggio cruciale I gestori dei locali ora potranno legittimamente allontanare dal locale O impedirne l'accesso a persone che in stato di alterazione O con atteggiamenti violenti Possono turbare la tranquillità e l'incolumità dei clienti Naturalmente chi ne avrà la possibilità Potrà anche usufruire per garantire la sicurezza Di personale addestrato e specializzato E adesso spazio alle vostre segnalazioni Andiamo ai Giardini Bracci Di fianco all'Istituto Tecnico Commerciale di Fanno Vediamo perché Ogni domenica mattina il signor Vittorio e il suo cane Fanno una bella passeggiata nei vicini Giardini Bracci Un bell'angolo verde nel quartiere Panchine, giochi, alberi centenari Un ambiente distensivo dove passare qualche momento con il suo fido compagno Tutto bene, tutto bello Ma ultimamente questa quiete è turbata da episodi Che non si conciliano affatto con il buon senso civico Ed il rispetto della proprietà pubblica Evidentemente qualcuno deve dimostrare di essere bravo A fare queste cose Perché non si spiega insomma Quale può essere l'utilità per chi lo fa Chi frequenta questa zona? Voi vedete insomma In genere la frequentano proprietari di cani E questo era un altro grosso problema Per la mancata raccolta degli escrementi Però ultimamente la cosa si è un po' sistemata Capita più raramente di vedere Di trovare rifiuti abbandonati dei cani E invece adesso ci sono le persone Che evidentemente o banchettano qui E lasciano in giro i rifiuti Oppure si divertono a dare dimostrazioni di forza Però più frequentemente è la domenica mattina Quindi il sabato sera La notte tra il sabato e la domenica in genere È abbastanza cruciale Lo scivolo per i più piccoli Reso inservibile e pericoloso Divelta di forza la struttura protettiva Stessa sorte è toccata la panchina adiacente Da dove probabilmente i genitori Guardano i bambini divertirsi Niente da fare Inservibile anche quella Anche un gioco a molla è sparito Restando esposta pericolosamente Solo la parte in metallo Che dire poi delle strutture in legno Senza le protezioni in gomma Per gli spigoli Meglio non finirci contro Era un bel giardino Era un bel posto per mamme e bambini Era appunto E adesso andiamo a vedere invece queste immagini Le abbiamo girate grazie alla segnalazione Di un nostro reporter di strada Che chiaramente ringraziamo Come ringraziamo i tantissimi di voi Che ci segnalano sempre tante cose in giro Per il territorio Allora qui siamo in via Kennedy Praticamente alla liscia Questo è un muro Una sponda di contenimento del canale Albani Come vedete dalle immagini C'è una fessura Una fessurazione si dice tecnicamente Che è lì da tempo Però probabilmente Con l'ultima scorsa di terremoto Quella da 5.9 Della sera scorsa Probabilmente qualcosa è successo Perché? Perché l'acqua Che sta fuoriuscendo Che fuoriesce da questo muro di contenimento È aumentata E quindi Insomma ci si domanda Se è il caso o meno Di intervenire In qualche modo Ecco queste sono le immagini Girate questa mattina Va detto anche che i Vigili del Fuoco Hanno ispezionato Comunque la perdita Al via domani Fino al 20 di novembre La settantesima edizione Dell'Accolta dei Quindici La rassegna di arti visive Che da alcuni anni Viene allestita Nella Galleria Carifano Di Palazzo Corbelli Che edizione è quella Di quest'anno Dell'Accolta dei Quindici? Come mostra è la 69esima Però cade nel settantesimo Anniversario Della fondazione Dell'Accolta dei Quindici Nata nel 1946 È un numero di meno Perché un anno I vecchi esponevano sempre Nelle scuole elementari Ed estate Un anno l'istituto Diciamo scolastico È stato sottoposto A restauri E quindi la mostra è saltata Quindi ecco la differenza Dei due numeri Ecco c'è anche una variazione Rispetto al programma Ci sono due eventi Nello stesso tempo Sì perché appunto Sono due eventi Che caratterizzano Quest'edizione Nel senso che Assieme alla collettiva Di artisti contemporanei Per lo più fanesi Per lo più fanesi Del territorio E vicino C'è anche la retrospettiva Dedicata ad Emilio Antonioni Un grande pittore fanese Del novecento Morto nel 1967 Che appunto noi riproponiamo Attraverso una rivisitazione critica Di parte dei suoi lavori È una cosa molto interessante Anche perché ci permette Di vedere come si è evoluta L'arte dal novecento Adesso E quindi diciamo Fra una visione tradizionale Se si vuole Quasi accademica Alle sperimentazioni Della modernità Sabato Nella chiesa Nella chiesa Santa Maria Scusa E sabato Nella chiesa Nell'ex chiesa Santa Maria Del suffragio Di Fano L'azione cattolica Della diocesi Di Fano Fossombrone Caglipergola Organizza un incontro pubblico Di approfondimento E confronto dal titolo Costituzione referendum A cui interverrà Il dottor Umberto Ronga Costituzionalista Dell'Università Federico II Di Napoli E membro Dell'Istituto Dell'Azione cattolica Per lo studio Dei problemi sociali E politici L'appuntamento È alle 17.30 Ed è aperto A tutti E adesso a Mondolfo Dove è tutto pronto Per la realizzazione Della pista ciclopedonale Che collegherà Centocroce A San Sebastiano Un'opera attesa e richiesta da tempo Da parte dei residenti Si tratta di una prima parte Del progetto Che ha l'obiettivo Di collegare Il tratto di strada Che dalla chiesa di San Gervasio Arriva sino Al centro storico Di Mondolfo Il progetto Che prevede un cofinanziamento Tra il comune di Mondolfo E la regione Marche Per un totale di Spese di circa 170.000 euro Nasce Dalla volontà Della maggioranza Di Nicola Barbieri Sindaco di Mondolfo Di avviare Un processo Di sostenibilità ambientale In tutto il territorio comunale E questo fine settimana Parte anche Ad Acqualagna La manifestazione Più importante Probabilmente Del paese Cioè la 51esima edizione Della Fiera Internazionale Del Tartufo Acqualagna si presenta Puntuale All'appuntamento Autunnale Col Tartufo Giro di boa Quest'anno 51esima edizione Sì appunto 50 edizioni 51 edizioni Dopo la grande festa Dei 50 anni Andiamo avanti Sempre nel seno Del Tartufo Del Tartufo bianco Progetto di Acqualagna Che per fortuna Sta uscendo Ha fatto un po' penare Quest'anno È partito un po' A rallentatore Ma sta Sta uscendo I cavatori Che sono sempre Molto attenti Molto cauti Invece ecco Gli vedi sorridenti Per cui sta uscendo E anche il prezzo Di conseguenza Ne beneficia Per cui Tartufo Di ottima qualità Ed accessibile Come del resto È sempre Fino a ottobre Novembre Il periodo migliore Per il Tartufo Tantissimi eventi È anche difficile Sintetizzarli L'invito è di andare A vedere Appunto Seguire La diretta Facebook Il sito del Comune Di Acqualagna Per i tanti eventi Che ci sono E anche per Le prenotazioni I cookie show Sono una cosa Insomma molto Apprezzata Molto gradita Perché è possibile Ecco seduti Degustare I piatti preparati Da grandi chef Vedere E cogliere I segreti Di questi Importanti chef E degustare In abbinamento Ai vini Marchigiani I vini della provincia E poi avete Un panorama Bellissimo Quindi insomma Una domenica Tra enogastronomia E bellezze territoriali Non può mancare In questo periodo È una grande festa Dell'autunno Marchigiano Insomma quindi Con il tartufo Che sicuramente La fa da padrone Ma i prodotti tipici E poi il paesaggio Il furlo Noi Organizziamo sempre Delle escursioni Anche in questo periodo Dove poi i colori Del furlo Sono veramente meravigliosi Ci sarà la possibilità Di visitare Di fare una visita Guidata Alla centrale Dell'Ener Una centrale Molto suggestiva Incastonata appunto Tra i monti Paganuccio E Pietralata E in effetti Appunto sì I colori dell'autunno Tra l'altro Il weekend Che è dal 30 Al primo novembre Si presenta Bel tempo Bel clima Per cui Veramente un invito A venire ad Aqualani Il telegiornale è finito Grazie per averci seguito Arrivederci Grazie a tutti A venire ad Aqualani